Gli uffici rimangono chiusi il sabato per mancanza di fondi? Sì, non c'è il personale, perché il personale del comune non scende a lavorare perché il comune non ha i soldi, non ha i fondi per pagare lo straordinario. E voi ora come funziona? Noi fino a... è capitato anche recentemente, il giorno 12 febbraio di sabato abbiamo dovuto chiamare... siamo stati costretti a chiamare le forze dell'ordine anche il prefetto, il sindaco, l'assessore Sala e la dottoressa Rimedio appunto per farci oprire gli uffici, fare scendere il personale dello Stato Civile e il personale che deve materialmente aspettare le pratiche per il rilascio dell'autorizzazione per modimentare le salme. Spieghiamo bene alla gente come funziona. In pratica una persona muore venerdì. Esatto. Quando è che i familiari potranno in questo caso portarsi la salme? Allora, se il comune, come è successo il giorno sabato scorso, il giorno 12 febbraio e se il comune rimane chiuso, le salme purtroppo dagli obitori o dalle proprie abitazioni non possono uscire prima di lunedì. Martedì, perché lunedì mattina prendo le pratiche, non c'è il tempo di fare le pratiche. Esatto, quattro giorni. Almeno, almeno quattro giorni. Ricordiamo che l'ufficio gestione impianti cimiteriali rientra nel servizio indispensabile per il cittadino, quindi non può essere chiuso il comune, questo ufficio. Nelle scorse settimane si è verificato un altro problema legato ai servizi cimiteriali, quello degli obitori pieni di ferie. Sì, ma assolutamente sì, perché di conseguenza, perché se il comune il sabato non apre, tutti i decessi di venerdì, sabato e domenica vengono trasportati e quindi le pratiche si possono lavorare il lunedì. Questo fa sì che i decessi di venerdì, sabato e domenica nei vari ospedali di Palermo, giustamente si affolla anche la camera mortuale, gli obitori. C'è un rischio di riempire nuovamente? Assolutamente sì, assolutamente sì. Altro tema centrale, c'è un'emergenza cimiteriale, è quello che della mancanza, si diceva, dei sacchi, della calce. Sì, esatto. In pratica è impossibile seguire le tumulazioni. No, fare le tumulazioni, perché si è verificato pure che senza la presenza di questi materiali che per legge devono essere usati, il comune fa tumulare le salme nelle sepolture gentilizie nelle cappelle, senza le laste di copertura. Dicendo ai familiari o a noi ditte che quando arriveranno queste laste, successivamente il comune provvederà con il personale del cimitero a andare a collocare queste laste di copertura. Volendo fare una sintesi di tutto quello che succede, già nei depositi ci sono mille fere di più di mille fere. Si rischia che il numero di queste salme possa nuovamente aumentare? Aumentare, assolutamente sì. Assolutamente sì, perché le salme, fermo restando che noi siamo sotto pandemia e quindi è un rischio per tutti, perché non è detto che una salma di covid, una persona di covid può morire in ospedale, può anche morire a casa e quindi in quel caso non abbiamo la possibilità nel caso in cui il sabato il comune è chiuso, che noi protesteremo per questa cosa perché è una cosa impossibile, il sabato il comune è chiuso, considerate che se muore il venerdì la salma dovrebbe uscire almeno il martedì, quindi quattro giorni a casa, dico con tutto quello che abbiamo in giro non mi pare una cosa così semplice.